Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati come al solito su Minecraft Ita Ormai appuntamento quasi giornaliero da tre giorni, almeno lo è, su Minecraft Ita Mi manca, mi manca, mi manca ragazzi Comunque, allora vi voglio far vedere alcune cose, vi dico subito il progetto che andiamo a fare oggi Mi raccomando, come al solito, un like per supportare la serie Visto che siamo partiti bene, quindi continuerei col piede giusto Con like, mi piace, commentate, con tutto quello che vi pare Comunque, supportate la serie, mi raccomando, per me è molto importante Vi faccio vedere la torre, che sta qui, da qui si vede molto bene E gasa, cioè ci sta un sacco sta torre, secondo me ragazzoli, è venuta bene Sono estremamente contento e poi andremo a fare l'altra parte di torre Ma questa è tutta un'altra storia perché la andremo a fare magari tra qualche episodio Anche quello di domani potrebbe già essere quello buono Ma, cosa fondamentale, aspetta ho fatto un casino Cosa fondamentale ora è andare a sistemare questa zona qua perché poi saranno da collegare queste due Significa che una volta fatta la parte sopra andremo a creare la base della muraglia Che arriverà pressoché qui sarà Tanti materiali Ma proprio una cosa infinita Però necessariamente li dobbiamo fare Lì ci facciamo comunque una porta che sarà molto molto alta Cazzo, ma vi rendete conto che muraglione dobbiamo fare Cioè è proprio stratosferico O forse sarebbe il caso di fare un ponte e poi sotto un po' di mura Eh, forse conviene C'è tipo sotto mura e sopra il ponte un po' più altissimo Sì, probabilmente è più bella l'idea No, perché sennò è improponibile Largo 4 mi raccomando Allora la cosa che comunque andiamo a fare oggi è quella di andare a sistemare questa zona qua come un nether Significa che questo sarà il centro di un nostro vulcano Adesso andremo a prendere un sacco di secchi Metteremo la lava Prenderemo la lava che già c'è E la ripartiremo in maniera molto più figa Andremo a prendere della nether rack Quindi andremo ad incendiare il tutto Lo dobbiamo rendere proprio come se fosse il centro di un vulcano Io non so in verità quanto ferro ho Devo essere sincero Ciao villager Allora qui possiamo tutto il legno Per ora non ci serve Possiamo la cobblestone Che è una quantità di roba Mamma mia, quanta cobblestone abbiamo Ma però è a livelli cosmici Ferro Eeeh E a voglia Allora 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 qui ci prendiamo già 4 secchi Qui ce ne abbiamo altri tanti fattibili Ci portiamo via questo Per ora ci dovremo essere Mi voglio prendere un po' di cibo Perché siamo totalmente in deficit Anche se io cibo non ce l'ho Cazzo Nether rack Nether bricks Nether Fence Nether fence Riprendiamo Nether fence Sti cazzi Eeeh Mi servirebbe anche Non c'è verso da mangiare Vabbè Un po' d'ossidiana Due pezzi Un po' pochi Poi qui Di roba Non ce n'è Oh pensavo ci fosse qualche patata Qualcosa Raga il cibo lo dobbiamo prendere necessariamente Raga fortuna C'abbiamo le riserve di pane Mi sono dovuto fare Le riserve di grano Mi sono fatto il pane E cazzo Se no era Era difficilissimo Impossibile quasi Allora iniziamo a prendere la lava Ho una E' andata La dobbiamo togliere tutta eh Perché poi la voglio rimettere Tutta Quindi significa che dovremo fare Un lavoretto Come si deve Molto bene Vieni qua Togli anche questa Devo farmi sicuramente altri secchi Perché ce n'è ancora tanta da togliere Ma ne facciamo per ora altri 4 Tac 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 E via Allora questa La togliamo Dovrei averla tolta tutta Sono comunque 8 secchi Non sono tanti Però ci si accontenta 8 secchioni di lava Possono Possono andare bene Possono andare bene Qua dobbiamo capire davvero come farlo Come allargarlo Perché così era Terrificantemente brutto Non mi piaceva Andava fatto bene Andava fatto bene Peccato che l'abbiamo fatta Un po' basso Il portale del nether Quindi bisognerà Ricamarci Inventarsi qualcosa Avviene da lì la lava Cioè c'è un pezzo di lava Là sotto Davvero Io sono contento Perché è comunque Un secchio di lava In più da poter utilizzare Però Perché io l'ho messo Là sotto Cioè nel senso Diversi episodi fa Ormai Ma Cristo Perché Qual è il motivo Di tale decisione Bene Preso anche questo Ci siamo Questo Lo mettiamo sopra Siamo a nove Nove secchi Io direi che altri nove Ce li facciamo tranquilli Quanti ce li facciamo 15 15 non posso Però altri nove sicuri In modo tale da poter andare nel nether E prenderci altri nove secchi di lava Dite quello che vi pare Comunque il nether Mette tanta ansia Cazzo se mette ansia il nether Io vabbè Un po' di questi Mi li prendo Mica per niente Perché comunque Ci posso decorare Tranquillamente Il mio bellissimo vulcano E quindi Sì Mi serve Tanta di questa robina Dammela Damme Damme Toto Damme Toto Damme Toto Anche la lava Dopodiché siamo al posto Vieni Tac 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 Ok Madonna raga Che spettacolo Guardate quanta cazzo di lava abbiamo Fantasso Madonna 18 secchi di lava abbiamo Questo è un fuolo incredibile Qui davvero ci potremmo prendere una quantità di combustibile Che è disumana Poi ti fai Una piattaforma Di lava In cui puoi andarla tranquillamente a prendere Cioè come questa praticamente E hai combustibile infinito Potrebbe essere un'idea Allora Partiamo dal principio Io arrivo E salgo qua Per ora tutto normale Già mi giro Devo vedere qualcosa Che mi ricordi Il nether Quindi iniziamo a mettere questi Qua secondo me ci sta un botto Una sottospecie di pezzo di magma Qua Distance Sto laggando? Veramente? Are you serious? No Sto andando a No 60 FPS Giusto No 46 Oddio Perché laggo? Oddio che cosa sta succedendo? Perché sto laggando? Quanto è la render distance? Allora ragazzoli Mi sono preso una pala Per scavare Mi stavo mettendo sta roba qua Ho preso un accendino E Qui dobbiamo togliere parecchia roba La voglio alternare ovviamente a della cobblestone Perché cazzo Cobblestone fondamentale Quindi significa che metteremo Della roba così Tac Tac E poi ci butti dentro anche un po' di cobblestone Che ti può servire Per non lo so Qual Così a caso No un po' di cobblestone Comunque non Fa sempre comodo È un po' più carino No no Sì 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 È più carino voglio E poi qui magari ci mettiamo solo cobblestone Anche se ogni tanto qualche Questo Quelche nether brick ce lo mettiamo Mica per niente Perché se no mi si Mi si congela Mi ci va da neve Dove è brutto Non fa per me No non mi piace Qui ci mettiamo un po' di cobblestone Eh 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 Ok 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 Piano 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 Ma non è finita ancora Perché a parte Dobbiamo accendere tutto Odo Ma questo non l'accendere Perché tanto non rimane acceso Tac Lascialo acceso Questo lo lasciamo acceso Per ora Come se fosse qualcosa È presa a fuoco La grandissima Così mi scioglie anche un po' di neve Ok Va bene A questo punto direi Che qua Qua sempre ci metteremo un po' di roba Easy Non so bene Non so bene ancora cosa Qui ci facciamo una pozzona di lava Ma proprio di quelle enormi Adesso la prendiamo Ci facciamo lo scavo E facciamo una pozza di lava Allora ragazzoli Più o meno la zona l'ho decorata così Ci dobbiamo mettere dentro Tutta sta lava Ci vorrà un pochito Più di un pochito Però Intanto abbiamo fatto lo spazio Poi ci mettiamo tutta dirt Qua intorno In modo tale che noi Piano piano Mettiamo la lava Blocco per blocco Blocco per blocco E poi la andiamo a togliere successivamente Così ci rimane estremamente più comodo Ha questo robotti qua dentro Perché comunque non mi serve questo pure Prendi il primo secchio di lava E fai così Tac Poi dopodiché Ti vai a scavare Anche questo Altro secchio di lava E tac L'ho resa un po' più irregolare Era brutta Non mi piaceva più di tanto Così irregolare È un po' più carina A questo punto ragazzoli Servono altri Qui non so che cazzo farci In verità E poi dobbiamo trovare un modo Per farlo figo Da qui Cioè tipo Cascate da tutte le parti Ma da sopra Quindi significhe Madonna raga Madonna Madonna Allora Facciamo tutto quello La frangente Ci vorrà Ci vorrà un pochino Io voglio Fare altri secchi Necessariamente Perché ne dobbiamo avere Una quantità Proprio che è Presso che infinita Per fare meno viaggi possibili Attualmente siamo comunque A 24 e poco Dovremmo andare a prendere Dell'altro ferro Allora raga Questo è quanto E sto esagerato Non mi c'entra nell'inventario Avendo una shulker box Sarebbe stata più facile Ma una shulker Eh purtroppo Le shulker box Noi non ci sanno E allora ci dobbiamo accontentare Così Però Cioè guardate quanta lava c'è qua Possiamo più viaggi Facciamo Ci mettiamo poco Se io facessi una scaletta Sarebbe anche più comodo Allora raga Eccoci qua Vediamo un po' Se c'è qualche creeperozzo cattivo Che ci vuole No Non c'è nessuno Va bene Ottimo A questo punto raga Che cosa facciamo Da qui Io direi di iniziare a buttare giù Secchiate di lava Come se non ci fosse un domani Ok Attenti che non vadano Da st'altra parte Quindi significa Fare una bella linea E partire magari da qua A buttare giù lava Tanto qui Va diretta qua Giusto Oh A testa di cazzo Testa di cazzo Testa di cazzo Riprendi la lava Aspetta Con calma L'ho vista brutta L'ho vista brutta Allora Allora con calma Perché qui Il problema è la lava Che si la leva Che ci dà fastidio Ok Poi Questo va qui davanti Tranquillo Non gli frega un cazzo Niente Vai tranquillo Va giù da quella parte Vabbè Perfetto E poi partiamo da qua Tac Poi questo te lo metti qui E fai partire da di qua E così via E così via Poi questi ci mettono dentro Scusa Permetti Ok Perfetto E così via Tipo qua Li porti avanti E fai Tutte ste belle cose Poi qui Come fai Lo togli qua Lo togli qui Lo metti di qua Poi togli questo Togli questo E ci butti uno Prendi questo E ce lo metti di qua E vai avanti così Fino a che noi li hai messi tutti Facendo proprio una cascata di lava Addosso alla nostra Belli Madonna Cazzo Ok Siamo attenti Qui che Vabbè Possiamo anche fare una roba del genere In verità eh Uno un po' più alto Uno un po' più basso Tanto sti cazzi Gaza E' figo Allora Potrebbe essere carina la cosa Ma dobbiamo aumentare Dobbiamo fare tutto il giro E voglio soprattutto Tanto qui L'idea è che qua non ci deve arrivare la lava Può tranquillamente andare sotto Questo pure lo posso tranquillamente togliere Allora la lava mi può scendere Mi deve scendere Quanto vi pare Ma cosa fondamentale Non mi deve arrivare Qui Questo deve essere un passaggio Che ci può essere la lava Dove cazzo mi pare Ma questo mi deve restare così Per forza Perché se no E' un bel casino Ok Facciamo un attimo Una cosa del genere Qui sti cazzi Come lo vuoi lasciare Lo vuoi lasciare Non mi importa più di tanto Basta appunto che Io abbia un passaggio Per andare nel nether Tranquillo Senza problemi A questo punto direi Di poter andare A continuare A fare tutto il giro Tutto il giro Della lava Anche da st'altra parte La mettiamo E facciamo proprio Tutte le pareti Di lava colata Ragazzi siete pronti? È stata lunga Ma ce l'abbiamo fatta? Cioè Va migliorata ovviamente Però la base c'è La base Secondo me c'è Di un vulcano Eh Con della lava Intorno c'è un Beh sentite Prima era scalcalito Adesso Cristo c'è un po' di lava Adesso eh Poi dobbiamo fare Dei rifiniture C'è ancora da Attrezzare parecchio Però comunque Secondo me Rispetto a prima Non c'è paragone Poi altra cosa Dobbiamo creare Una sottospecie Di scala Ma pericolantissima Proprio Che Da che cazzo ne so Tipo da qua Mi porta su Perché Allora ci sono ancora Dei pezzi Che si vedono Non mi piace Qui la lava Deve venire giù Mi serve qualche altro Cosa Ma io ho già fatto Un altro viaggio Nel nether Non c'ho sbattito Di farne un altro Vi volevo far vedere Una cosa Adesso Intanto possiamo passare Dobbiamo passare Necessariamente da dietro Per far vedere Per farvi vedere Tutto il passaggio Perché comunque Ci vuole Lì è ormai Impraticabile Praticamente Comunque anch'io Oddio Oddio No 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 va affanculo Va affanculo Va affanculo Va affanculo Va affanculo Creeper Creeper No Mancavano i fail Cazzo Almeno ho anche dormito Così posso prendere Tranquillamente Tutta la mia roba In quasi Totale tranquillità Neanche avere il cazzo Perché Allora c'è uno zombie E c'è un creeper Lo zombie Non mi deve toccare Non mi deve prendere la roba Perché lo massacro Se no Il creeper Mi dà urto Più che altro Non tanto il coso Perché lo zombie Alla fine Mi fa fotte sega Eccolo qua Perché non può andare indietro Vedi Come è partito in aria Anche lo zoo Affan Che urto di nervi Mi mancano 16 secchi Dove stanno i miei secchi Dico dove stanno i miei secchi Dai no Non ci credo Che ho perso 16 secchi Io No Ah stanno lì bene Visti Sì sì Ottimo 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 Per come sono ridotto male Mangio anche Rottenflash Comunque Guardate qua Passiamo vicino a tutti i cosi Io ho paura che Di failare male Quindi faccio Ecco bravissimo Emi Non rischiare Tanto ti prendi qualche rischio 30 secondi in più Non succede niente Allora guardate Qua C'è ovviamente Tutta sta lava Che è tanta 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 lava A questo punto però Qui ci dobbiamo fare In avamposto noi Perché lo dobbiamo collegare a quello Quindi significa E da qui noi faremo Un bel ponte Che va tipo laggiù Passando in mezzo A tutto questo mare L'avamponte pericolante Quindi sorprende Rischiosissima come cosa Ma intanto Abbiamo comunque guadagnato Un avamposto Possiamo andare tranquillamente Da lì Alla torre Invece fare tutto il giro Dentro casa Ok Quindi secondo me GG Mi piace Come è venuto il vulcano Cioè non è proprio un vulcano È l'interno di un vulcano Con questo cratere enorme Piano piano di lava Beh senti Rispetto a prima Cioè è tutta un'altra storia Comunque ragazzi Per questo video Penso possa essere Tutti un ringrazio Se la visione E lasciare mi piace Se il video è piaciuto Iscrivervi al canale Se avete fatto Di condividere il video Su facebook E farmi scena a persone Mi raccomando Passate tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram Ci vediamo con il saluto A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti